Ha tentato di sfuggire alla cattura, nascondendosi sul tetto dell'abitazione all'interno della quale si era rifugiato, ma è stato individuato Antonio Pelle, il latitante destinatario di due ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP del Tribunale di Roma per traffico internazionale di droga. Il particolare è emerso nella conferenza stampa dei carabinieri, presenti tra gli altri il comandante provinciale Lorenzo Falferi e il comandante del reparto operativo Vincenzo Franzese. Pelle, che non era armato e non ha opposto resistenza, si trovava in un'abitazione di Contrada Sant'Anna di proprietà di Antonio Penna, di 48 anni, noto alle Forze dell'Ordine per piccoli precedenti e che è stato arrestato per favoreggiamento. Penna però, in casa assieme alle due sue figlie, non risulterebbe legato alla criminalità organizzata. Secondo gli investigatori, il latitante si trovava solo di passaggio nella piana di Gioia Tauro dal momento che si ritiene sia la Locride il luogo dove si sarebbe nascosto negli ultimi quattro anni. Irrepelibile dal maggio 2012, quando era sfuggito all'arresto nell'ambito dell'operazione denominata Good Luck, portata a termine a Roma, Pelle è ritenuto elemento di spicco della cosca Vottari e nel 2007 era stato arrestato nell'ambito delle operazioni che seguirono la strage di Duisburg collegata alla faida di San Luca tra i Pelle Vottari e i Nirta Strangio. Il colonnello Falferi, nel corso dell'incontro con i giornalisti, ha sottolineato le capacità maturate dalle stazioni in grado di rilevare le anomalie sui territori, mettendo in evidenza l'apporto fornito dallo squadrone e li portato cacciatori per il buon fine dell'operazione. Grazie a tutti.